a settembre mi devo iscrivere in palestra questa è la cosa che mi è stata scrivere più spesso in questi giorni tutti quanti mi avete ringraziato grazie Cicaloo grazie a te a settembre mi scrivo in palestra e questo mi fa molto piacere l'unica cosa è che a questa aggiungete sempre una serie di domande sì mi voglio iscrivere in palestra a settembre ma va bene sta palestra va bene sta offerta guarda mi hanno detto che posso usufruire di questa offerta e voi per la prima volta maledetti ciccioni che avete lasciato il divano perciò vi siete trovati davanti a queste grandi offerte non sapete come comportarvi e me lo chiedete a me che dire vanno visto con quelle facce da fessi e vanno proposto sicuramente qualche offerta e voi dite ma io come faccio a capire una buona offerta una cattiva offerta se fa il caso mio perché dovete anche valutare se fa il caso vostro la prima cosa che vanno offerto sono gli abbonamenti annuali allora voi mi dite oh al mese costa 80 ma hanno offerto 60 o 50 per 12 mesi che dici me faccio l'abbonamento annuale ma se vanno offerto 50 al mese per 12 mesi sono 600 euro che tu cacci e tiri fuori se tu ne paghi subito 60 70 80 quelle che so per singolo mese intanto cacci 60 70 euro se io te dicessi fate l'abbonamento tutto l'anno all'autobus no ho fatto l'ottanto un mese tu che fai non sapendo se st'auto va bene passa funziona te servirà nei prossimi mesi o paghi tanto tutto l'anno te sei dato la zappa sui piedi hai la disordina anticipo fate un mese vedi com'è se la palestra te va bene ragioni se fate sta annuale gli chiami se c'è in semestrale no ma m'hanno detto che lo devo fa adesso perché è rateizzabile solo adesso ma chi va a detta sta cosa poi finanziare che fanno rateizzano solo adesso no perché dopo non lo rateizzano più alzano i prezzi ah e allora siete vestiti voi che ci credete un altro m'ha scritto mi fa ha cicalò ho trovato una palestra col numero limitato di persone se mi affretto adesso riesco a rientrare in quel numero limitato che vuol dire cioè c'è sta una palestra che decide di fa entrare un totte persone cioè questi pagano l'affitto pagano gli istruttori pagano la struttura pagano luce acqua e gas e dicono però ve famo entrare solo in 50 al 51esimo pure che paghi non entri a parte che già ci avrebbe poco senso a livello economico ma secondo voi qualunque imprenditore del mondo che fa dice bravi bravi non fate entra più nessuno ma guarda bustano alla porta vorrebbero entrare no no non li fate entrare mi raccomando siamo 50 e 50 rimanemo tanto ho fatto il conto io con sti sordi ce vado paro e questi sono gli imprenditori moderni ma chi va raccontata sta cosa lo scrivono lo dicono ma poi che succede altri esaggiano no al massimo possiamo rimettere solo 300 persone dentro la nostra palestra ma quando riceveranno mai 300 persone sei in buco ci entreranno 20 persone in altro e no noi due solamente 250 ma ci sono mai venute manco se gli offrire i pizzetti 250 persone in palestra tua puoi fai 250 abbonamenti che piacerebbe fa 250 abbonamenti e ma noi mettiamo solo 250 abbonamenti annuali 300 si tu li vorresti mettere è diverso e cioè ragazzi anche questo è uno specchietto per le allotole ci cascano i fessi andammo li perché c'è il numero limitato ma lascia perdere se c'è il numero limitato lascia perdere è come la discoteca arriva davanti alla discoteca c'è stare butta fuori che fa la fila no ma posso entrare no devi aspettare ma che c'è dentro è vuoto devi aspettare ti ho detto si deve formare la fila così la gente vede qua c'è la fila lì c'è la fila però dell'altro entra facile dentro la discoteca è piena lì stanno a fare la fila discoteca è vuoto è uguale così sembra che la palestra nostra è esclusiva ragazzi i soldi sono i vostri tenetevi da conto è vero che bisogna spenderli in cose importanti come il mangiare bene la palestra ma non li dobbiamo nemmeno buttare questi soldi altri ancora mi hanno detto ah ci sono io da quella palestra hanno detto che sono la migliore palestra d'italia e già partimo dal presupposto hanno detto chi l'ha detto la palestra è grazie al cacchio che poi dici che sei la peggiore palestra d'italia se sei un megalomane dici che la tua è la palestra migliore d'italia se sei una persona onesta dici che la tua è una buona palestra in base al tuo criterio tanto valutate perché se colui che vi presenta la palestra fa il megalomane già partimo male questa è la nostra palestra è la migliore d'italia forse una delle migliori del mondo io già diffiderei da uno che se presenta così vai a un ristorante questo è il miglior ristorante del mondo scusi ma ha ricevuto qualche encomio non so c'ha le due stelle michelin no no guardate il nostro chef è il migliore del mondo ah e perché ha fatto il campionato mondiale dello chef più bravo del mondo presidente lui federazione lui partecipava solo lui allora si è il più bravo del mondo pertanto cari amici quando è così ma lasciate perdere la nostra palestra è la migliore siamo i più bravi del mondo e più forti abbiamo gli istruttori migliori perché sono tutti i più forti chi si presenta così è già un brutto biglietto da visita la palestra è riconosciuta a livello universale come una buona palestra motivo ci sono persone che ne parlano bene ci sono risultati sportivi risultati di frequenza perciò la palestra ci sono le persone si allenano tanti dicono ma i corsi sono tutti pieni andate lì a guardar sti corsi c'è stata sempre la stessa gente in alcuni casi vedi Maurizio che sta a fare il corso 1 corso 2 e corso 3 Antonello che fa il corso 2 e corso 4 e corso 6 Luciano che fa il corso 2 e 3 e 6 e 8 sono sempre gli stessi se mi schia nel gioco delle tre carte hai visto guarda ci abbiamo 100 iscritti ma quello mi pare quella prima no no ma c'è una parrucca ma se è cambiata una maglietta cioè quando fanno così ragazzi i corsi che non sanno più che pesci pigliare sempre la stessa gente che fa i stessi corsi un'altra domanda che mi è stata a fare è meglio una palestra specializzata nello sport che voglio fare o una palestra dove posso fare un pochettino tutti gli sport in particolare da combattimento perché noi abbiamo tre tipologie di palestra una che è il classico centro fitness dove dentro trovate pure quello che vi piacerebbe fa voi pugilato, kickboxing, muai taglio e tutte le varie discipline di judo e compagni che vi piacciono a voi e poi c'è stato tutto il resto zumba, trumba, trick e luck e balla la e c'è pure Ponzio Pilat voi ricordate no? e questo è un centro poi abbiamo invece quei centri che si sono specializzati solo in sport da combattimento, sport moderni e lì trovate tutte queste discipline miste, ci stanno tutti judo, karate, kudo, sputo, box, prepubox, prequa, soprassotto, super karate, super kickboxing, super MMA, ultra campioni eccetera eccetera e poi ci sta la palestra specifica di quello sport per esempio una delle cose che a me piace più è la palestra che fa solo pugilato e attività connesse voi direte eh ma non è un po' limitante? se voi andate al ristorante no? ve volete mangiare la pizza quella sera? dove andate? a una pizzeria rinomata che fa la pizza buona oppure andate da ciccio o scoreggione che fa un po' tutto cucina cinese, giapponese, thai, italiana, americana, cucina della luna, de marte dell'universo, mischia tutto, butta l'ardorce sulla pasta, sulla pizza, invece sputa sopra, si leva le caccole mischia troppo? non fa bene, il troppo stroppia! valutate bene, io il mio consiglio è scegliete una palestra che sia focalizzata su quella disciplina che volete fare se vi ritrovate in una palestra dove tutti fanno tutto ah guarda qua famo questo, poi se buttamo per terra famo quello, poi guarda tutti insieme che almeno abbiano delle sale separate, tu un po' i fa pugilato e giuto insieme perché non c'ha senso, poi se iniziano a tirar fuori ste arti marziane, ste super tecniche segrete lasciamo proprio perde, eh no ma qui facciamo pure le tecniche segrete ma scusa, ma se non c'hai delle sale separate, no, questi quando fanno le tecniche segrete io me le guardo poi le imparo e dopo le applico e so cacchi, capite? allora vorrei dire che sono tecniche segrete che tutti le stanno a vedere, le palestre migliori per me sono quelle dove vai, fai la tua bella lezione di prova e non senti da subito siamo i migliori, abbiamo qua, abbiamo là, ma ti accorgi subito che ti stai allenando cazzo è tosto allenassi, quella è la palestra migliore quella che inizia, ah si riempie la bocca di parole, ah abbiamo, facciamo, siamo, lui ha fatto, eh cioè se tu stai un quarto d'ora a raccontarmi a me fai perdere un quarto d'ora d'allenamento la palestra deve essere, sei entrato, ecco poggia la borsa, ti sei cambiato le scarpe, bravo, vatti allenare ti sei messi i guanti, no, sbrigate perché la gente non aspetta a te, questa è la palestra poi un'altra cosa importantissima, la palestra deve essere pulita, deve essere ordinata, deve essere tenuta con cura è una cosa che vi accorgerete subito, quando vedete la roba buttata per terra l'attrezzatura sempre così sparpagliata, c'è qualcosa che non va è un ordine mentale che bisogna avere dentro la palestra non esiste tenere attrezzatura per terra, signori ci sono degli scomparti, non è che lasci i guantoni da una parte lascio un sacco buttato dall'altra lascio i colpitori poggiati così, quello di là, tutti che fanno colà borse lasciate in giro, ci deve essere ordine poi immaginate, entrate in palestra e inciampate sulla borsa di uno ce la vattete in altro, un guantone da uno poi arrivate e c'è un ostacolo un sacco, gente che passa in mezzo un'altra cosa da guardare, importantissima, è la polvere voi dite, vabbè Cicano ma tu stai a guardare la polvere dentro la palestra? sì, perché voi in palestra aprite i polmoni, vallenate tutto quanto se è una palestra piena di polvere avete vanificato tutto il vostro sforzo ma qual è l'attrezzatura importante da avere nella palestra? ragazzi, questo dipende dallo sport che avete scelto è normale che, siccome stiamo parlando di sport a combattimento ci devono essere dei sacchi, ma non quattro sacchi in croce ci sono palestre, dove io mi sono allenato che c'avevano una quantità tale di sacchi che erano superiori alle persone che c'erano e voi direte, vabbè ma pure che c'essimo un sacco a testa non li useremmo mai tutti questi sacchi invece no, erano tutti diversi sti sacchi c'era quello a pera, c'era quello doppio c'era quello lungo, quello corto, quello pesante quello blindato, d'acciaio, quello piccolino palla veloce, sacco veloce in infinità, ce n'erano di tutti i tipi non è il numero di sacchi che vi interessa perché in un circuito poi li farete tutti quanti vi interessa la tipologia di sacchi perciò vi serve un tipo di sacco per ogni tipo di attività ma se non c'è stata sta roba e ci sono i soli quattro sacchi economici ma lasciate perdere poi i sacchi da terra lasciate escludiamoli proprio perché sono palestre che si presentano con i sacchi da terra i palestri ce stanno dentro la palestra sono palestre senza i tappetini per fare gli addominali sdraiate per terra, tanto come funziona va bene, ma se me lo sdraiate per terra scusami tanto, me la d'allenare gratis per strada me sdraio sulla panchina e ho fatto addominali c'è gente che si inventa che ne devi fare addominali per non comprare i tappetini ho addominali, non servono a niente lascia perdere tanto ti vengono uguali con gli esercizi che fanno non mi vado a spendere i soldi c'è sta gente così taccagna e non vuole spendere i soldi per i tappetini vi ricordate che ho parlato della scaletta la scaletta è un esercizio fondamentale ci sono palestre che non spendere i soldi manco per la scaletta ti serve la scaletta, disegnatela per terra vai tranquillo cioè capite come stiamo messi? e voi state a dare i soldi a sta gente? no, no, fate bene i conti andate a vedere allora, com'è la palestra? mi segno un mese, voglio te com'è tenetegli sempre il fiato sul colo io me pago un mese anzi, se si potesse pagare dieci giorni pagare dieci giorni che fai? voglio te come va e se a fine del mese non me trovo bene ce ne so centocinquanta di altre palestre poi certo se abitate in un paesino piccolino magari non è così ma mettetegli al pepe al culo a questi fategli sentire la pressione perché io te pago se il servizio vale non c'è sana offerta a settembre a settembre tutti vanno fa cassa quelle non so offerte quelle so strategie per fare i soldi magari le offerte ve le fanno dopo quando hanno visto non hanno riempito il corso perché la gente se n'ha nata allora, forse è ora che cambiamo registro te fanno le palestre potete beccare l'offerta migliore perché a quel punto questi pur di davvero abbonamento vostra scontano perché non sanno chi mette dentro ormai hanno pagato tutto poi ci sono palestre belle, funzionali che da subito si lavora bene che lo fanno da anni, perciò c'è esperienza ci sono istruttori, gestori persone capaci dietro ci mancherebbe però diffidate perché c'è tanta gente che si è improvvisa e frega i ciccioni come voi perché voi vi ritrovate nella situazione che oh, Cicalone mi ha convinto ad andare in palestra ma ci devo andare per forza certo ci devo andare per forza intanto hai iniziato a correre no, non ti ho visto correre ci vai già a ciccioni andate ad andare preparati dovete correre fare gli esercizi che vi ho detto piegamenti trazioni scureggioni quello che volete ma non avete fatto niente perciò già vi presentate male in palestra non gli vedete e vi mando io a sto punto e mi fate fare figuracce oh, mi manda Cicalone quello se guarda quell'altro oh, questo è un cicciono manda Cicalone lì mortacci su a Cicalone oh, ci manda sempre i ciccioni ma ci manda uno buono evitate veramente di farvi fregare perché poi noi che venite a me e mi dite oh, però ho fatto un anno qua la palestra non fa per me fanno un casino pulsa dei piedi scureggioni gente incapace e lo so che ti ha detto fate l'annuale fate il mensile fa schifo un mese dopo te ne vai e il primo mese va bene perché se vanno a tenere strette il secondo fa a cagare e il secondo mese te ne vai spendi un po' di più ma almeno sei sicuro capito? eh, però se avessi fatto l'annuale ora sono sei mesi che sto dentro e vabbè è inutile piangere sul latte versato specie per i ciccioni che versano pure la Coca Cola quelli poi piangono la Coca Cola come faremo? ragazzi datevi da fare allenatevi scrivete in palestra ma con due occhi così grossi controllate che è sta roba? che state a fare? ci vediamo alla prossima ciao